Avete rilevato alcune criticità per quanto riguarda la gestione del Moro sulla sua riconferma? No, dunque, da un po' di tempo che se ne parla, quasi due mesi che sugli organi della stampa locale la discussione nella giunta regionale, assunta ovviamente dalla lettura dei verbali, risulta questa presunta illegittimità che si sarebbe determinata e sarebbe stata verificata successivamente a un esposto, io voglio chiedere al Ministero della Salute, al Ministro Lorenzin di effettuare un'immediata ispezione di quanto sta accadendo perché di fronte a una verificata presunta illegittimità nella nomina del direttore non ci sia stata un'altrettanta corrispondenza in una sospensione cautelativa e in una eventuale sostituzione la mia preoccupazione è che in uno stato di estrema criticità in cui versa la sanità locale si possa determinare un'ulteriore confusione che sarebbe devastante per i nostri servizi sanitari. Io ricordo che ad esempio ad Ascoli Viceno mancano 12 primarie e questo non lo dico solo per le figure singole ma perché se manca la struttura, la testa di un servizio, di un reparto, a cascata manca tutta la struttura di quel reparto. Penso alla chiusura di malattie infettive, penso alla chiusura di psichiatria, penso anche alla chiusura di servizi molto molto importanti che fino a qualche anno fa erano un fiore all'occhiello della sanità del nostro territorio e voglio anche dire e ringraziare pubblicamente i tanti dipendenti che ogni giorno sottoponendosi a turni importanti, massacranti per una mancanza di personale ancora riescono a tenere in piedi un livello di servizi decente. Però se la situazione è questa noi potremmo entrare in uno stato confusionale, non capisco perché la giunta regionale abbia messo in minoranza il presidente per evitare una sospensione cautelativa che sarebbe stata dovuta dopo il parere che il direttore dell'Asor aveva dato in tal senso.